Oggi è la giornata mondiale del pensiero, una giornata di amicizia internazionale che il mondo scout vive e festeggia dal 1926 e oggi lo facciamo anche noi qui in studio a Di Buon Mattino. Ci spostiamo verso il centro dello studio ovviamente aspettando l'udienza di Papa Francesco come ogni mercoledì ma nel frattempo dando il buongiorno e il benvenuto a Daniela Ferrara, capo guida d'Italia, Gesci. Buongiorno. Buongiorno. Daniela, ci spieghi che cos'è la giornata del pensiero per chi non fosse scout, per chi non fosse addentro al mondo degli scout? Già come lo diceva, il mondo internazionale si riunisce nella fraternanza e nello stare insieme. Che giornata è oggi? Sì, la giornata del pensiero è la giornata che festeggia intanto il compleanno del nostro fondatore, quindi Lord Baden Powell e della moglie. È una giornata appunto della fraternità internazionale, per noi è un valore importantissimo perché ci permette di superare le differenze di razza, nazionalità, di religione e viverla fa sentire i ragazzi cittadini del mondo e sperimentare che la pace è possibile costruirla insieme. Per cui ricordiamo in un unico braccio tutti gli scout e le guide del mondo ed è anche importante perché è un momento in cui riusciamo a sostenere con un penni molto simbolico che raccogliamo durante questa giornata lo scoutismo e lo guidismo internazionale verso le realtà più povere e più disagiate del momento. quest'anno anche nei confronti dell'Ucraina si raccolgono appunto dei fondi o poi le realtà proprio povere appunto dell'America perché lo scoutismo e il guidismo possono crescere e possono essere sostenute insomma in queste realtà veramente difficili. Daria, ogni anno c'è un tema che viene associato a questa giornata, quest'anno su che cosa ci si concentra? Sì, nel 2020 è stato chiesto proprio ai ragazzi qual era la criticità appunto del momento rispetto al futuro e loro hanno individuato che il tema importante è l'ambiente, è la pace per cui sono questi due temi, il nostro mondo e il nostro futuro infatti è il tema sono due temi in particolari che vengono affrontati vengono affrontati appunto con quest'ottica di pensare globalmente e agire localmente per cui si affronteranno le tematiche e poi si cercherà di attivare anche delle azioni concrete nei territori. Ed è bello pensare effettivamente al fatto che si possa vivere insieme per l'ambiente, per la pace però con dei valori che sono un po' al di là, un po' più profondi magari fare delle azioni concrete con dietro però un pensiero meditato. Sì, diciamo lo scoutismo mira a far crescere appunto dei cittadini attivi, responsabili, uomini che possono fare delle scelte autonome e coraggiose nella vita per cui questa è la nostra missione e quindi lo scoutismo insomma aiuta a far sì appunto che nella propria vita i valori fondamentali sono quelli che ognuno di noi si porta, diventa un po' palestra di vita, un po' lo scoutismo, un po' su questo. Ecco, però la giornata di oggi non viene definita giornata degli scout, viene definita giornata del pensiero. Perché questo accento proprio sul pensiero che ci suggerisce è proprio l'idea di una mentalità, di una mentalità comune che porta poi a quella fratellanza di cui si parlava prima? Sì, sì, perché ripeto il valore della fraternità è fondamentale, quindi è ricordare tutti gli scout del mondo, ricordare in un unico abbraccio come diciamo noi un po' tutti gli scout del mondo. Il tema, diciamo oggi, è un tema fondamentale, quello dell'ambiente e della pace. per noi l'ambiente è il vivere la natura, perché uno degli elementi importanti diciamo dello scoutismo è la vita all'aria aperto, che per noi è un ambiente educativo dove i ragazzi vivono, scoprono se stessi, dove scoprono appunto i limiti e i bisogni che ognuno di noi ha, anche le differenze nel rapporto con gli altri. E in questo sperimentano anche che tutto il mondo è connesso, uomo creato e Dio nell'ottica dell'ecologia integrale di Papa Francesco. E a questo proposito ci dicono dalla regia che siamo pronti per dare la linea proprio a Papa Francesco e alla solita udienza del mercoledì. Ovviamente Daniela rimane con noi, ci raggiungeranno anche dei ragazzi che vivono proprio lo scoutismo quotidianamente, quindi rimanete con noi. Adesso linea all'aula Paolo VI con l'udienza di Papa Francesco. Termina così l'udienza di Papa Francesco, ma noi vogliamo continuare a parlare di pace. Vogliamo farlo con l'occhio non rivolto all'aula Paolo VI, ma rivolto al mondo scout. E lo facciamo ridando il buongiorno a Daniela Ferrara, capo guida d'Italia, e dando il buongiorno e il benvenuto a Francesco Benedetto e Pierfrancesco Libri. Arriviamo a voi tra un attimo. Daniela, abbiamo detto giornata del pensiero scout, due compleanni speciali, quelli che celebriamo oggi, giornata dedicata all'ambiente e alla pace. Sì, sono due giornate, queste tematiche sono state scelte dai ragazzi un po' di anni fa, perché per noi è importante la possibilità appunto di agire e lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Per cui l'ambiente ci permette oggi, essendo una problematica molto critica per il futuro, di affrontarla non soltanto in termini di conoscenza rispetto alla problematica, ma anche di possibilità di capire quali azioni nel nostro ambiente, nel nostro territorio, nella nostra quotidianità possiamo portare avanti. È il discorso della pace perché per noi è un valore, ma è una realtà fra due giorni, non è un anno che la guerra in Ucraina ancora persiste, il Papa ci dice adeguiamoci alla guerra, per cui è veramente fondamentale per noi far sì che l'essere artigiani di pace sia una condizione sia nello spirito che nell'agire come Papa Francesco ci indica, ma anche un percorso educativo, perché poi alla pace ci si prepara sempre, ogni giorno, per cui veramente credo che oggi è ancora più importante insistere su questi due aspetti fondamentali che oggi vengono celebrati. Allora sentiamo questi aspetti come vengono percepiti dai giovani, visto che quest'oggi i giovani ce li abbiamo in studio. E allora Francesco, sentiamo innanzitutto da te come ti sei approcciato al mondo scout, com'è cominciata questa tua avventura e soprattutto come sta continuando, perché tu oggi sei qui a testimoniare che ancora lo sei e continua ad esserlo. Sì, beh il mio inizio è stato particolare perché in realtà io ho iniziato perché i miei genitori mi hanno mandato mio fratello, che a sua volta volevano facesse parte di un gruppo, insomma di una comunità. Quindi sono entrato anch'io e in realtà la scoperta poi del mondo scout non è più una scelta che tu fai perché ti ci mandano i genitori, arriva il momento in cui sei tu che devi scegliere, devi scegliere di seguire dei valori, di seguire una promessa e soprattutto di seguire una prospettiva di vita che è poi quella che ti si apre nel momento in cui fai questa scelta. Questa prospettiva tra poco la chiediamo anche a Pietro, appunto qual è la promessa fatta e come continuate a mantenerla, ma c'è un'immagine che vogliamo vedere, un video che ci ha mandato Zaccaria Dell'Ai, anche lui uno scout, che in realtà però ha avuto un'attenzione non solo ai più piccoli ma anche ai più grandi. Guardiamolo insieme. Ciao, sono Zaccaria, ho 11 anni e abito all'Alves, in provincia di Bolzana in Alto Adige. Sono appassionato di storie, soprattutto quelle custodite dai nostri anziani. Mi piace molto leggere e scrivere e dalla prima elementare ho inventato le storie del vecchio Trampa, un simpatico vecchietto che compie tante avventure in giro per il mondo. Quando sono diventato un lupetto del branco al basula rupe del gruppo Scout da Ivestre, ho notato che tra tutte le specialità proposte mancava la specialità di amico degli anziani. Così ho scritto agli caricati nazionali, proponendo di introdurre questa nuova importante specialità. Sono davvero emozionata e felice di rappresentare tutti i lupetti e le cucinelli dell'Italia e spero che questa sia un'occasione forte, un'occasione per valorizzare il legame tra i giovani anziani. Questa è la testimonianza di Zaccaria, che il 4 febbraio scorso è stato nominato al Fiere della Repubblica da Mattarella e questo ci fa capire come il fatto dell'età sia un limite valicabilissimo quando si parla di mondo Scout. Pietro Francesco, veniamo a te. Raccontaci un po' qual è stata la tua esperienza quando è entrato il mondo Scout, anzi quando tu sei entrato, o forse è più giusto dire quando il mondo Scout è entrato nella tua vita e come è continuata questa avventura. Sì, è di certo un'ambivalenza, è giusto dire io sono entrato e il mondo Scout è entrato all'interno della mia vita. All'età di nove anni, in parrocchia, comunque il gruppo Scout è abbastanza presente e ho fatto questa scelta di intraprendere questa esperienza nuova, emozionante e soprattutto divertente. a nove anni il gioco è uno strumento principale. Poi io sono entrato nella vita Scout e però la vita Scout è entrata dentro il mio e è diventata una passione intramontabile. E soprattutto, come diceva anche Francesco, una proposta di vita, un'aderire a una proposta che va in controtendenza molte volte a quello che la società ci impone, una società egoistica, egocentrica, invece la proposta Scout è una proposta di vita coraggiosa, una proposta di vita concreta che garantisce e dona speranza al ragazzo e dona speranza di dire che un futuro migliore ci può essere e siamo noi che dobbiamo costruirlo. E a questo proposito, l'esperienza che vogliamo proporvi adesso e che tra l'altro TV2000 propone per questa giornata del World Thinking Day, la giornata mondiale del pensiero, in prima serata, stasera, verrà trasmesso il film Aquile Randaggio. In seconda serata Scout, viaggio verso l'isola che non c'è, ma ripartiamo da Aquile Randaggio, un'esperienza che ci porta proprio all'andare in controtendenza, l'epoca è quella del fascismo e ovviamente il pensiero è quello Scout. Guardiamo insieme questo estratto. Abbiamo promesso sul nostro onore di fare del nostro meglio per compiere il nostro dovere verso Dio e verso la patria, per aiutare il prossimo in ogni circostanza, per osservare la legge Scout. Non è giusto e noi non lo accettiamo che ci venga impedito di vivere insieme secondo la nostra legge, che è legge di libertà e lealtà e fraternità. Noi continueremo a fare del nostro meglio per crescere uomini onesti e cittadini preparati e responsabili. Noi continueremo a cercare nella natura la voce del Creatore e l'ambiente per rendere forte il nostro corpo e il nostro spirito. Ciaccio, cosa sei rivenuto a fare oggi? La promessa. Allora, il film lo potete vedere questa sera alle 20.55 su TV 2000, ma il regista lo vedete alle 10 e un quarto del mattino qui a Di Buon Mattino. Gianni Aureli, buongiorno, benvenuto e grazie per essere qui con noi. Buongiorno, grazie di averci invitarlo tutti. Allora, questo film già ci ha fatto intuire un po' di che cosa si tratta naturalmente, però parla di una pagina molto particolare e forse poco conosciuta anche non solo dell'Italia ma del mondo scout perché riporta al momento della resistenza. Sì, era un momento chiamato la giungla silente perché era tutte le associazioni erano state sciolte dal regime fascista che ha capito che per creare un regime per avere controllo sul regime doveva partire dalle menti dei giovani quindi ha provato a chiudere tutto quello che era in disaccordo con il regime e ha chiuso anche gli scout. Per fortuna non solo le acque grandagge ma soprattutto le acque grandagge in quel periodo hanno detto no, la nostra scelta è quella della proposta scout del metodo scout i nostri valori sono quelli della promessa che fra parentesi la stessa promessa loro è quella che abbiamo fatto tutti noi anche loro quindi i valori nel tempo sono rimasti gli stessi e hanno continuato a portare a tenere accesa questa fiamma in un periodo buio. Siamo in chiusura di questo spazio ma avendo quattro scout qui possiamo chiedere ad ognuno di voi facciamo un giro quindi veloci nelle risposte tutti quanti partiamo da Daniela che cosa significa essere scout oggi? Oggi significa portare i valori della promessa della legge in qualunque contesto significa essere veramente dei cittadini attivi e responsabili significa essere donne e uomini capaci di fare scelte coraggiose e libere io credo che oggi in una realtà in un contesto complesso in una società molto diciamo con un futuro incerto lo scottismo aiuta ad affrontare veramente diciamo le difficoltà e aiuta anche a percorrere diciamo un percorso che possa essere non soltanto di valori ma anche di abilità competenze che si acquisiscono poi appunto nell'esperienza scout per cui credo che ci sono alcune cose alcuni elementi importanti che poi vengono vissuti appunto nella vita di ogni giorno diciamo l'esperienza appunto della vita comunitaria l'esperienza appunto dell'impresa non bruciamo tutti i temi perché se no gli altri tre non sanno ne rispondere vai Gianni subito a me è così ok secondo me essere scout oggi vuol dire metterci la faccia sporcarsi le mani in prima persona che è un po' anche quello che ha detto Daniela e credere in un ideale bello che è quello della promessa della legge anche questo l'hai già detto ma crederci e quindi portare avanti quello in cui si crede diciamo voce ragazzi sentiamo prima Pietro e poi Francesco sì secondo me essere scout si racchiude tutto nella frase del nostro fondatore Baden Powell che ha scritto nella sua ultima lettera agli scout cioè il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri cioè credere che credere e lottare per il bene per un bene comune e avere la speranza e la fiducia in questo bene noi siamo i primi a dover avere la speranza in un mondo che si può costruire migliore e soprattutto con coraggio perché è l'unico modo di andare avanti di andare in controtendenza come dicevamo prima di andare in controtendenza a a tutto a questo mondo questa società che ci tiene in catene invece noi che andiamo avanti con la nostra forza e la nostra gioia Francesco una sola parola per te una sola vai servizio perfetto grazie 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 veramente a voi quali rappresentanti vari di vari momenti del mondo scout ma che continuano a portare avanti ricordiamo questa sera il film di cui avete già visto qualche estratto adesso Aquile Randaggio questa sera in prima serata 20.55 su TV2000 ci faccio piacere ricordare il direttore della fotografia Giorgio Brancia quindi insomma che vogliamo anche salutare e ringraziare grazie soprattutto a tutti quanti voi che siete stati qui con noi pubblicità e poi cantiamo grazie a voi buona giornata e buona festa grazie